Siamo vicino a Bergamo, per l'esattezza, zona Gorle. Perché? Perché sabato avremo il piacere di partecipare alla sedicesima edizione del Mondiale di Gorle con gli alpini e tutto quello che ne seguita. Perché con Eleonora qui al mio fianco avremo il piacere di parlare di un'eccellenza. La realtà Scott è una realtà molto importante ma soprattutto trasversale. Scott è un marchio americano nato nel 1958. Ha le carlinghe abbandonate dagli aerei, ha tolto questi tubi in alluminio e ha sostituito i bastoni da sci abitualmente utilizzati in taglio di bambù con questi bastoni in alluminio. E da lì è nato il nostro marchio. Sono poi seguite delle applicazioni su vari prodotti, dalle maschere da sci diventate poi maschere da moto, dal primo stivale da moto in plastica che riproponiamo anche ora, fino a ampliare la collezione inserendo anche una collezione dedicata al mondo delle biciclette, inizialmente settore mountain bike, ora anche strada grazie ai nostri team, al ciclocross piuttosto che le e-bike. La sicurezza è per noi un fattore indeterminante su tutti i nostri prodotti fino al nuovo casco 550 che è un casco molto particolare che va a utilizzare una tecnologia mix evitando un punto unico di impatto per cui una forza maggiore e una possibilità di danni anche decisamente peggiore ma va a ripartirla su tutta la calotta proprio per aumentare l'impatto, sì, ma sulla superficie riducendone la forza, questo per permettere di avere una condizione di sicurezza in più. Lo stivale 550 che è uno stivale proposto al 100% in Italia, è fatto a volpago, i vari prodotti sono sviluppati e prodotti nei luoghi di eccellenza della serie. Questi sono tutti prodotti interessantissimi ad esempio per il progetto anche di Moto Turismo Italia, questo è un altro filone che sposa perfettamente anche Transitalia Maratone, è sempre una manifestazione che a breve partirà da dunque di Rimini. È stato piacevole vedere tutti questi prodotti, una colazione 2020 quindi a breve sarà sicuramente in commercio. disponibile nei negozi già da fine mese. Ringrazio, ringrazio voi per essere passati a trovarci, per averci dato questa opportunità sempre di presentare i nostri prodotti, la nostra collezione, i nostri master. Grazie mille, alla prossima. Ciao!